Ogni giorno le aziende producono un volume impressionante di documenti. Le informazioni in essi contenute rappresentano le basi del successo dell'azienda. Ciascun documento è correlato a processi diversi. I documenti vengono creati, inoltrati, controllati, archiviati e, soprattutto, consultati più e più volte. Questi processi comportano un notevole dispendio di tempo e risorse. Vale quindi la pena di dedicare un po' di tempo alla loro analisi dettagliata per poterli ottimizzare. È a questo punto che entra in gioco il sistema di gestione documentale. Un sistema di gestione documentale consente di migliorare i servizi offerti a partner e clienti e di risparmiare tempo e denaro. Analizziamo un processo aziendale in modo dettagliato. Ad esempio, la vendita di un prodotto. Dalla richiesta del prodotto ed eventuali domande del cliente, fino all'effettuazione dell'ordine e alla creazione della fattura, il processo richiede l'emissione di una serie di documenti, in formato sia elettronico che cartaceo. L'offerta corrente può essere archiviata come file di Excel o Word su un computer locale o su un server. La corrispondenza di posta elettronica con il cliente viene archiviata su un server Exchange o Notes. L'ordine viene archiviato in formato cartaceo nella relativa cartella e la fattura salvata nel programma di contabilità. Quando il cliente lo richiede, è necessario recuperare tutti questi documenti dalle diverse posizioni di archiviazione. Se un collega che non è momentaneamente disponibile è in possesso di un documento cartaceo, il processo si interrompe. Questo sistema non consente all'azienda di fornire risposte rapide ed ha un impatto negativo sui rapporti con il cliente. Le aziende che utilizzano un sistema di gestione documentale sono nettamente avvantaggiate in questo senso. Il sistema di gestione documentale gestisce tutti i documenti accumulati nelle attività aziendali quotidiane e li archivia in un raccoglitore elettronico. Ogni dipendente autorizzato può accedere ai documenti dalla propria workstation. Attraverso la ricerca delle voci d'indice predefinite o una ricerca full text in tutti i documenti, è possibile ottenere una panoramica dell'intero processo in pochi secondi. Nell'elenco dei risultati, tutti i documenti sono visualizzati chiaramente e possono essere aperti con un semplice clic del mouse, indipendentemente dal formato in cui sono stati archiviati, documento cartaceo, file di word, fax, file di immagine o video. Ho tutte le informazioni davanti a me, me ne occupo immediatamente. Con questo sistema è possibile evadere qualsiasi richiesta nel giro di pochi secondi. L'azienda risparmia tempo prezioso e i partner e i clienti sono soddisfatti. Fantastico! È un piacere trovare un servizio così efficiente. Un sistema di gestione documentale, tuttavia, può fare ben altro. Consente infatti di ottimizzare i processi aziendali interni, i cosiddetti flussi di lavoro. Esaminiamo ad esempio il processo di approvazione delle fatture. Senza un sistema di gestione documentale, tutti i documenti sono inoltrati manualmente e rimangono in possesso di un dipendente finché non vengono elaborati. Se il dipendente ritiene che le attività correlate al documento non siano di propria competenza, rinvia la fattura al mittente e il processo ricomincia. Con il sistema di gestione documentale, il processo di approvazione della fattura non subisce alcun cambiamento sostanziale. Tuttavia, le fatture pronte per l'approvazione non vengono inoltrate in formato cartaceo, ma elettronico, rimanendo quindi fisicamente disponibili nel raccoglitore elettronico. Il responsabile del centro di costo può accedere alla fattura da qualsiasi workstation, anche da un dispositivo mobile, e approvarla applicandovi un timbro digitale. Per tutta la durata del processo, il personale autorizzato ha accesso al documento e può verificarne lo Stato. In tal modo, è possibile tenere traccia dei documenti ed evitare che vadano perduti. Grazie alla rapidità del processo, inoltre, è possibile rispettare i periodi di sconto. Entrambi gli esempi sopra riportati dimostrano chiaramente i vantaggi derivanti dall'impiego di un sistema di gestione documentale nei processi giornalieri. Sorge però spontanea la domanda Come trasferire tutti i documenti nel raccoglitore elettronico? A seconda del tipo di documento, il processo di digitalizzazione è automatizzato in tutto o in parte ed è quindi estremamente semplice. I documenti cartacei, come le fatture, le lettere o le stampe meno recenti, vengono scansionati. Dopo la scansione, ai documenti vengono assegnate delle voci d'indice. La maggior parte delle parole chiave possono essere estratte automaticamente durante il processo di scansione. Nell'eventualità di grandi volumi di documenti, è possibile affidarne la scansione a un'agenzia esterna, ad esempio nel caso in cui si desideri trasferire un intero archivio cartaceo in un sistema di gestione documentale. I più moderni sistemi di questo tipo possono inoltre essere integrati direttamente in numerosi prodotti software. Ad esempio, i documenti di Microsoft Word vengono così archiviati nel sistema di gestione documentale con un semplice clic del mouse e salvati automaticamente in tale posizione mediante il software aziendale. I documenti già in formato elettronico, come i file PDF, CAD o di Word, possono essere trascinati nel raccoglitore del sistema di gestione documentale oppure trasferiti tramite uno speciale driver per la stampante. Se si sceglie questa procedura, è possibile fornire le parole chiave per eseguire ricerche rapide oppure utilizzare meccanismi automatizzati. Per le fatture in uscita, ad esempio, può essere impostata l'estrazione di parole chiave specifiche direttamente dal documento. I messaggi vengono archiviati in modo automatico direttamente dal programma di posta elettronica e indicizzati con parole chiave, quale il mittente, il destinatario e l'oggetto. Collegando tali informazioni al database dei contatti, è possibile recuperare automaticamente il nome completo e la società del destinatario. È evidente come i sistemi di gestione documentale possano essere integrati in qualunque infrastruttura e adattati a qualsiasi tipo di azienda. I processi e i flussi di lavoro aziendali rimangono invariati, ma vengono eseguiti elettronicamente, eliminando i processi laboriosi e riducendo i tempi di attesa. I documenti vengono raccolti, ordinati e archiviati in modo permanente in un pool di documenti digitale. Ecco quindi i principali vantaggi derivanti dall'impiego di un sistema di gestione documentale. Tutti i documenti vengono archiviati in un pool centrale, rimanendo accessibili in qualunque momento, indipendentemente dal formato del file, dalla data o dall'autore. Grazie all'accesso via web, inoltre, sono consultabili da qualunque posizione. Dopo aver eseguito l'archiviazione automatica o semi-automatica, è possibile eseguire ricerche rapide e precise all'interno dei raccoglitori. È inoltre possibile aumentare l'efficienza, implementando flussi di lavoro in grado di ottimizzare i processi e garantire la trasparenza. Senza contare i vantaggi derivanti dal risparmio in termini di spazio, dalla protezione dei documenti contro eventuali allagamenti e incendi e dalla possibilità di un accesso semplice e immediato per anni. Tutti i motivi per implementare un sistema di gestione documentale